Io sono Barbara Franchin, sono il presidente della Fondazione ITZ e il direttore del museo ITZ Academy Museum of Art and Fashion. Ho deciso di aprire questo spazio dopo 20 anni di esperienza e 20 anni di raccolta di talento da tutto il mondo. Avevamo 15.000 progetti, progetto collettivo, volevamo condividerlo con tutto il mondo. Questo archivio è specialissimo, non ce ne sono altri nel mondo. Racconta la creatività declinata in moda degli esordi dei giovani designer. È un posto estremamente emozionante. Qui trovano divertimento e non solo, anche molto dialogo con se stessi, tutte le generazioni. Trieste è la mia città. Io sono nata, cresciuta, vissuta a Trieste. Amo profondamente la mia città, che mi è madre e padre. Questo posto è adatto ad accogliere un progetto così intimo e così unico al mondo. Grazie. 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 Grazie.